Ciao amici di Passione Italiana, bentornati alle nostre lezioni con Passione Italiana e con Marta. Questo video sarà molto molto breve. This will be a very short video. Oggi vediamo i numeri da zero a venti. We will see how to pronounce, how to say the numbers from zero to twenty. In italiano ovviamente, in Italian obviously. Allora cominciamo. Zero, you can repeat after me. Zero, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, nove, attenzione, nove e dieci. Dieci. Sì, allora ricapitoliamo da zero a dieci. Allora, zero, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Perfetto, continuiamo. Non abbiamo finito. Allora, undici, undici, dodici, tredici e, this is long, lungo, lungo, quattordici. Quattordici. Ancora, again, one more time. Quattordici. Sì. Quindici. 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 E sedici. Attenzione, attenzione, attenzione adesso. Be careful now. Attenzione. Cambiamo ordine. Diciassette. This is the difficult one. Diciassette. Due s, due t. And we start with dieci this time. Ok? Diciassette. Diciassette. Sì. E diciotto. Diciotto. Diciannove. Due n. Diciannove. E venti. 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 Perfetto. Allora, rivediamo i numeri. zero, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. E attenzione. Undici. Undici. Dodici. Tredici. Quattordici. Quattordici. Quindici. Sedici. Diciasette. Diciotto. Diciannove. E venti. I colori sono molto importanti. Colors are very important. rosso. Rosso. The red ones. I rossi. The red ones. Finiscono con dici. They end in dici. Undici. Dodici. Tredici. Ma i blu. The blue ones. They start with dici. Cominciano con dici. Invertiti. Diciasette. Diciotto. Diciannove. Ok? È un trick per ricordare. Allora, come sempre, tocca a te. It's your turn now. Vediamo. Quante pizze ci sono? How many pizzas are there? Quante pizze ci sono? Ci sono... How do we say this? Pensate. Sì. Quattro. Ci sono quattro pizze. Margherite. E... Quanti libri. Books. Quanti libri ci sono? How many books are there? Quanti libri ci sono? Ci sono... Think? Otto libri. Bravi. Ancora. Another one. Quante candeline. Candles. Candles. Little candles. Quante candeline ci sono? Ci sono... Think? How we say this? Sì. Sette. Sette candeline sulla torta. On the cake. Sulla torta. E ancora. Quante candeline ci ci sono adesso? Hmm... Ci sono... Think? Undici candeline. Ok? Allora, quante... Hmm... Buone. Quante ciliegie ci sono? Quante ciliegie ci sono? Quante ciliegie ci sono? Ci sono... 3, 2, 1... Pensate. Think? Diciotto ciliegie. Ci sono diciotto ciliegie. E ultimo. Last one. Quanti cuori ci sono? Cuori. Hearts. Quanti cuori ci sono? Ci sono? Sì. Due cuori. I cuori di passione italiana. Actually, there are 3 hearts. I cuori di passione italiana. Ok, amici di passione italiana. Spero che questo breve video vi sia piaciuto. Fate un like e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale. I hope this short video... I hope that you liked this short video. Don't forget to subscribe to our channel and like this video. Ciao, amici di passione italiana! Ciao, amici di passione italiana! Grazie a tutti.